Più spazi, più partecipanti e una qualità internazionale sempre più elevata. Trieste Espresso Expo, la più importante fiera internazionale dedicata agli operatori del mondo del caffè, è pronta ad aprire i battenti per l'ottava edizione giovedì 20 ottobre. Ancora una volta in Portovecchio, ma con un aumento di superficie del 15%, occupando oltre che i magazzini 27 e 28, anche il 26 e aggiungendo un'attenso struttura all'esterno. 202 gli espositori, provenienti da 20 paesi del mondo, se nel 2014 furono 11.000 le presenze in città, quest'anno si punta a battere il record, toccando quota 13.000. È internazionale la più grande fiera del mondo della filiera dell'Espresso, per cui naturalmente in regione è la più importante, la più grande a livello regionale. Abbiamo riempito la città, gli alberghi sono stracarichi. L'evento organizzato da Ariès Camera di Commercio in collaborazione con l'associazione Caffè Trieste e supportato dall'International Coffee Organization e lo spaccato di un settore che cresce sempre più a livello mondiale, sia nel consumo di caffè espresso che nell'aumento della produzione di caffè crudo, con i giganti come la Cina, entrati di prepotenza tra i produttori. Per la città però è soprattutto un segno importante nella rivitalizzazione del Portovecchio. Sì, ho detto a Eve Dream, ho un sogno, quello del Portovecchio. Oggi Antonio ha realizzato in quell'area qualcosa di straordinario, credo unico al mondo, ma qualcosa veramente cittadino è andato a vedere, anche se non è aperto il pubblico, perché merita, è l'inizio della trasformazione del Portovecchio. Insomma, un appuntamento fatto di convegni, workshop, scambio di informazione tra professionisti e opportunità di business, visto sempre più come un punto di riferimento per il settore. La location è poi chiaramente un'opportunità, perché come il caffè ha bisogno della tazzina giusta, così un evento come questo necessita del contenitore giusto, citando Fabrizio Polo, Iaz, presidente dell'associazione Caffè Trieste. E allora perché non osare di più e trasformare l'evento in una kermessa ancora più grande ed attrattiva? Si potrebbe e si può, e noi vorremmo farlo, iniziare già dal 2017, a fare queste 10 giornate del caffè a Trieste, tra l'altro capitale mondiale del caffè, marco registrato.